In questa lezione Simon e Bettina chiederanno ad alcuni passanti Wie geht's Ihnen? Tradotto letteralmente Come va esso a lei? Wie geht's Ihnen? Come sta a lei? Guten Tag! Hallo! Wie geht's Ihnen? Gut! Buongiorno! Guten Tag! Ciao! Hallo! Come va esso a lei? Come sta? Wie geht's Ihnen? Bene! Gut! Hallo! Hi! Wie geht's Ihnen? Gut! Ok! Schönen Tag noch! Grazie! Hallo! Hi! Ciao! Wie geht's Ihnen? Come va esso a lei? Come sta? Wie geht's Ihnen? Bene! Gut! Ok! Schönen Tag noch! Ok! Buona giornata ancora! Danke! Grazie! Einfach nur Hallo! Hallo! Wie geht's Ihnen? Gut! Semplicemente einfach! Solo nur! Semplicemente solo ciao! Einfach nur Hallo! Per dire, dimmi semplicemente ciao! Einfach nur Hallo! Come stai? Wie geht's Ihnen? Bene! Gut! Guten Tag! Guten Tag! Wie geht's Ihnen? Gut! Hatten Sie einen schönen Tag? Ja! Auf jeden Fall! Schönen Tag noch! Schönen Tag noch! Ja! Gleichfalls! Buongiorno! Guten Tag! Come va! Wie geht's Ihnen? Wie geht's Ihnen? Gut! Ebbe lei una buona giornata! Hatten Sie einen schönen Tag? Si! Si! In ogni caso! Ja! Auf jeden Fall! Ogni! Jeden! Full! Caso! Si! In ogni caso! Ja! Auf jeden Fall! Buona giornata ancora! Schönen Tag noch! Si! Ankerati! Ja! Gleichfalls! Hallo! Hallo! Wie geht's dir? Ganz gut! Schönen Tag Art! Ja! Bisher schon! Ja! Dann will ich da weiter nach schönen Tag? Ja! Danke gleichfalls! Ciao! Hallo! Come va eso a ti? Wie geht's dir? Come ti va? Wie geht's dir? Tutto bene! Piuttosto bene! Ganz gut! Bello! Schön! Aggiungendo la E e la N finale, la pronuncia non cambia. Bella giornata! Schönen Tag! Bella giornata avuto? Schönen Tag gehabt! Avuto? Gehabt! Io ho avuto? Ich habe gehabt! Bella giornata avuto? Schönen Tag gehabt! Ja! Bisher schon! Bisher! Finora! Bisher schon! Finora già! Ja! Bisher schon! Si! Finora già! Per dire? Si! Finora è stata una bella giornata! Ja! Bisher schon! Da notare la differenza tra schon e schon! Schon è l'avverbio che vuol dire già e la O non ha i due puntini. Si pronuncia schon! Mentre l'aggettivo bello, bella, la O ha i due puntini e si pronuncia schon! Bello! Schon! Già! Schon! Piccola parentesi! Come ho già detto in alcune lezioni precedenti, io non sono un tedesco, quindi non sono un madrelingua, ed è mia abitudine nel pronunciare parole e frasi in tedesco, enfatizzarle, oltre che pronunciarle in modo lento. Ovviamente un tedesco parla in modo fluente e molte parole all'interno di una frase sembrano assumere un suono differente. Doch, ma, oltre, ulteriore, weiter, weiter, anche noch. In questa frase l'espressione doch, weiter, noch è come dire di nuovo, quindi auguro io di nuovo una bella giornata. Dann wünsche ich doch weiter noch einen schönen Tag. Doch, weiter, noch, di nuovo. Ja, danke. Si, grazie. Gleichfalls. Anche te. Si, grazie. Anche te. Ja, danke. Gleichfalls. Guten Tag. Hallo. Wie geht's dir? Gut. Schönen Tag gehabt. Ähm, ja, beim einkaufen. Ja, dann wünsche ich doch noch weiter viel Spaß. Dankeschön. Genau. Und tschüss. Guten Tag. Hallo. Wie geht's dir? Come va esso a te? Come ti va? Wie geht's dir? Bene, gut. Schönen Tag gehabt. Bella giornata avuta. Ehm, ja, beim einkaufen. E sì, dello shopping. Beim einkaufen. Dello shopping, per dire, facendo shopping. E sì, facendo shopping. Ehm, ja, beim einkaufen. Sì, quindi auguro io. Ja, dann wünsche ich. Doch, weiter. Oppure. Doch, weiter, noch. Di nuovo. Viel Spaß. Molto divertimento. Viel Spaß. Molto divertimento. Danke schön. Grazie. Grazie davvero. Si può scrivere anche tutto attaccato. Danke schön. Guten Tag. Wie geht's dir? Gut. Schon viel Spaß. Già molto divertimento. Schon viel Spaß gehabt. Avuto. Hier in der Stadt. Hier in der Stadt. Qui nella città. Già molto divertimento avuto. Qui nella città. Per dire, ti sei divertita nella città. Schon viel Spaß gehabt. Hier in der Stadt. Ja, sehr viel. Sì, molto. Guten Tag. Hi. Hi. Wie geht's Ihnen? Gut, und ihr? Ja, gut so weit. Sie dürfen mich ruhig duzen. Okay. Viel Zeit heute in der Stadt verbracht schon? Ne, nur beim Kaffee trinken wir in einem Kaffee. Oh, so weit. Wie geht's Ihnen? Gut, und ihr? Bene, e tu? Ja, gut so weit. 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 Lontano. Ma può significare anche di gran lunga. Gut so weit. Bene, così, di gran lunga. Per dire, mi va piuttosto bene. Ja, gut so weit. Duzen è un verbo e significa dare del tu. Duzen. Ruig. Tranquillamente. Sie dürfen mich ruhig duzen. Lei può dare a me, tranquillamente, del tu. In der Stadt. Nella città. Verbracht. Trascorso. Passato. Verbracht. Quanto tempo oggi nella città trascorso già? Per dire, oggi quanto tempo è trascorso già in città? Viel Zeit heute in der Stadt verbracht schon? E la passante risponde, beh, solo del caffè in una caffetteria. Ne, nur beim Kaffee trinken in einem Kaffee. Kaffee trinken. Bevanda di caffè. Beim Kaffee trinken. Del caffè. Nur, solo. Solo del caffè. Nur beim Kaffee trinken. Come sta? Wie geht's Ihnen? Wie geht's Ihnen? Riascolta e ripeti. Wie geht's Ihnen? Bene. Gut. Buona giornata ancora. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Riascolta e ripeti. Schönen Tag noch. Wie geht's Ihnen? Gut. Aveva lei una buona giornata? Per dire, ha avuto una buona giornata. Hatten Sie einen schönen Tag? Hatten Sie einen schönen Tag? Riascolta e ripeti. Hatten Sie einen schönen Tag? Jeden, ogni, fall, caso. Auf jeden fall. In ogni caso. Sì, in ogni caso. Ja, auf jeden fall. Riascolta e ripeti. Ja, auf jeden fall. Come sta? Bene. Buona giornata ancora. Schönen Tag noch. Ja, gleichfalls. Sì, anche a te. Altrettanto. Gleichfalls. Riascolta e ripeti. Ja, gleichfalls. Come stai? Molto bene. Tutto bene. Ganz gut. Bella giornata avuto? Per dire, hai avuto una bella giornata? Schönen Tag gehabt. Riascolta e ripeti. Schönen Tag gehabt. Biss ja. Finora. Ja, biss ja schon. Sì, finora già. Per dire, sì, finora tutto bene. Riascolta e ripeti. Ja, biss ja schon. Doch significa ma. Noch. Ancora. Tuttavia. Ma. Doch. Ancora. Tuttavia. Noch. Wight. Lontano. Wighta. Più lontano. Ulteriore. Ulteriormente. Quindi l'espressione doch, wighta, noch, letteralmente significa ma, ulteriormente, ancora, che sa significare di nuovo. Doch weiter noch, di nuovo. Quindi auguro io, di nuovo, una bella giornata. Dann wünsche ich doch weiter noch einen schönen Tag. Riascolta e ripeti. Dann wünsche ich doch weiter noch einen schönen Tag. Sì, grazie. Altrettanto. Ja, danke. Gleichfalls. Altrettanto. Anche a te. Gleichfalls. Ha avuto una bella giornata? Schönen Tag gehabt. Ja, bisher schon. Sì, finora tutto bene. Viel Spaß. Molto divertimento. Viel Spaß. Doch weiter. Oppure, doch weiter noch. Di nuovo. Doch weiter. Sì, quindi auguro io, di nuovo, molto divertimento. Ja, dann wünsche ich doch weiter viel Spaß. Riascolta e ripeti. Ja, dann wünsche ich doch weiter viel Spaß. Già, molto tempo, oggi. Schon, viel Zeit, heute. Nella città. In der Stadt. Traskurso. Verbracht. Per dire, hai traskurso già molto tempo qui in città. Schon viel Zeit heute in der Stadt verbracht. Riascolta e ripeti. Schon viel Zeit heute in der Stadt verbracht. Bisschen. Un poco. Ein bisschen. Un pochino. Ora. Stunde. So eine Stunde. Così un'ora. Un'oretta. Hai traskurso già molto tempo qui in città. Un poco. Giust un'oretta. Ein bisschen. So eine Stunde. Ascolta e ripeti. Ein bisschen. So eine Stunde. Ok. Quindi auguro io alle una bella giornata ancora. Ok. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag noch. Riascolta e ripeti. Ok. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag noch. Riascolta e ripeti. Riascolta e ripeti. 15 zu 20.